e diamo un ultimo occhiato ancora su quelli che sono stati i concerti di Michael Jackson a Roma domani il micheroni del palcoscenico rock e a Torino lo stadio comunale poi via a Vienna ed altri 40 concerti in Europa c'è tanta curiosità ancora per lui anche se proprio noi gli abbiamo trovato in poche ore tanti di quei ma che non gli erano mai stati contestati in avora per dovere di cronaca ci uniamo a quei tanti che lo hanno visto sono rimasti elettrizzati dal suo spettacolo dalle sue pirouette di grande ballerino pensando semmai con la nostalgia del dopo a quando e semmai lo rivedremo è stato sì sono ragioni Grazie a tutti.